In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus. Semper laudetur. Maria Sede Sapientie, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, benvenuti a questo commento del Vangelo della sedicesima domenica dopo la Pentecoste. Il Vangelo è tratto dal capitolo 14 di San Luca, versetti dall'1 all'11. «E' lecito o no curare di sabato?» Ma quelli se ne stettero zitti, ed egli prese il malato per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse agli altri, «Chi di voi, se un asino o un bue li cade nel pozzo, non lo tira subito fuori, giorno di sabato?» A questo non poterno replicare. Poi, notando come gli invitati si sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. «Quando sei invitato da qualcuno a un pranzo di nozze, non metterti al primo posto, per tema che non sia stato invitato da lui, uno più di te degno di onore. E non venga chi ha invitato te e lui a dirti, cedigli il posto, e allora tu, con vergogna, andresti a occupare l'ultimo posto. Ma quando sei invitato, va all'ultimo posto, in modo che, arrivando, chi ti ha invitato ti dica, «Amico, vieni più su», allora ne avrai onore agli occhi dei commensali. Perciò chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Carissimi fedeli, troviamo in questo brano di Vangelo due insegnamenti da parte del Signore. Intanto, questi insegnamenti vengono dati all'interno di un pranzo, di un pasto. Gesù è stato invitato da uno dei principali esponenti del movimento dei farisei a pranzo, e quindi si trova di fronte, in giorno di sabato, questo è molto importante, Gesù è stato invitato di sabato, il giorno sacro degli ebrei, in cui non potevano svolgersi lavori servili, nessun lavoro servile. Era permesso il giorno di sabato. Gesù viene invitato e trova nella sala un povero idropico. Questo significa che le sale erano aperte, non erano chiuse, cioè chiunque volesse entrare poteva. Del resto abbiamo trovato in un altro brano La presenza di quella donna, Gesù invitato a pranzo da un altro fariseo, a un certo punto entra quella donna che unge i piedi del Signore. Quindi le sale erano aperte. Era il giorno sacro, il giorno di sabato. C'era questo idropico nella sala. C'era per caso? C'era perché portato dai farisei stessi per mettere alla prova Gesù? Ecco, certamente il Vangelo dice che lo avevano invitato e tenevano gli occhi sopra di lui per vedere se cadeva in qualche errore. In effetti Gesù aveva un atteggiamento molto disinvolto nei riguardi del cibo, mentre gli ebrei avevano sviluppato nel corso dei secoli tutta una serie di regole e regolette proprio riguardo al cibo. Gesù era più disinvolto. Molto probabilmente all'interno di un pasto sarebbe stato più facile trovare qualche imperfezione nel suo comportamento o nel suo insegnamento, imperfezione a riguardo proprio la legge. Ebbene, c'era questo povero idropico lì presente. Idropico vuole dire una malattia, l'idropisia, che comporta l'accumulo eccessivo di liquidi sierosi nel corpo. Ecco, questo idropico non chiede nulla, non chiede di essere guarito, semplicemente si pone lì davanti al Signore. E effettivamente deve essere una persona che ha fede. Perché diciamo che ha fede questo idropico? Perché Gesù lo guarisce. E sapete che Gesù guarisce, certamente, non chiunque, ma chi ha fede in Lui. Quindi questo idropico non chiede nulla, perché sa molto bene che non bisogna chiedere miracoli in giorno di sabato. Questo era molto chiaro anche per Lui. I capi delle sinagoge lo insegnavano. Non dovete farvi curare in giorno di sabato. E questo idropico lo sapeva. Si è messo lì davanti al Signore, semplicemente perché credeva in Lui. E Gesù lo prende per mano e lo guarisce. Allora ecco che i comensali cominciano a mormorare. Gesù legge nel loro cuore e capisce che hanno dell'astio, hanno dell'ivore contro di Lui. Perché ha guarito in giorno di sabato. Però non parlano. Non parlano perché, in un certo senso, l'attività del guarire non è proprio un'attività servile. Quindi la legge poteva essere interpretata anche a favore di Gesù, no? Non è un... E d'altra parte, chi avrebbe potuto mettere in discussione il valore di una guarigione rispetto alla legge? Insomma, non osano parlare perché la situazione poteva essere effettivamente discutibile. E allora Gesù, sapendo che cosa si muoveva nel loro cuore, racconta una parabola. Se un bue o un asino cadono in un pozzo, ecco, di giorno di sabato, bisogna sapere che i pozzi a quel tempo non avevano i parapetti, e quindi era possibile cadere in un pozzo, specialmente per un animale, inavvertitamente, e quindi il proprietario doveva, in qualche modo, anche se era sabato, svolgere questo lavoro che sì era servile, recuperare il bue o l'asino, pensate quanta fatica, altro che guarire un infermo. eppure lo facevano, lo facevano per non perdere quel capitale che per loro era importante, no? Un animale da lavoro, un animale da soma, erano importantissimi. Per non perdere quella ricchezza, avrebbero faticato anche in giorno di sabato, chiunque l'avrebbe fatto. Quindi, questo per dirci che la carità, senza dubbio, il primo insegnamento è questo, la carità è più importante di tutte le regole o regolette. Prima viene la carità, qui si trattava di salvare, di guarire una persona, fisicamente, certo. Ma ci può anche dire che, può anche voler dire questo, che il Signore è colui che sa interpretare meglio di ogni altro la legge data da Mosè. È il maestro dei maestri, è colui che può interpretare, insegnare, nel migliore dei modi, la legge di Mosè, perché è Lui il verbo incarnato, la parola di Dio incarnata. Poi, il Signore ne approfitta per dare un altro insegnamento. Ecco, naturalmente, vede che nella sala cominciano ad arrivare gli invitati e i più ragguardevoli cercano i primi posti, ma può succedere anche qualche imprevisto, cioè che un invitato vada ad occupare il posto di un'altra persona ragguardevole. Allora arriva il padrone e dice, no, mi dispiace, ma lì doveva esserci il tale. Vai più lontano, ecco. Quindi, la figura che questa persona fa di fronte a tutti gli altri commensali è una brutta figura. Il Signore ci vuole insegnare l'umiltà. quando sei invitato vai a metterti all'ultimo posto e allora verrà il padrone e ti dirà sali più in alto, vieni più vicino ai posti principali e quindi farà una bella figura di fronte a tutti gli altri. Il Signore, quindi, sta parlando di umiltà a persone che l'umiltà non la conoscevano, ma ognuno aveva un'opinione troppo alta di sé. Un'opinione alta di sé. E perciò come insegnare queste persone l'umiltà? Si può insegnare soltanto presentando a loro il rischio della figuraccia, quindi con un argomento legato alla buona educazione legato ai buoni rapporti con gli altri. Effettivamente è così. Quando è molto difficile insegnare una virtù a una persona si può innanzitutto indicare delle motivazioni anche umane per cui una certa cosa non può essere fatta. Il Signore usa proprio questo metodo. Quindi sarebbe molto bello recuperare quello che una volta veniva chiamato il galateo e la buona educazione perché è stata perduta nella nostra cultura, è stato abbandonato con la scusa di essere più spontanei. In realtà il galateo e la buona educazione sono il primo gradino per poter permettere l'insegnamento delle virtù in questo caso della virtù dell'umiltà che ci fa grandi davanti agli occhi di Dio. Non dobbiamo apparire davanti agli uomini ma dobbiamo essere davanti a Dio. Alla fine quando ci troveremo nel giudizio e questo pasto a cui il Signore è stato invitato non è altro che la raffigurazione di quello che sarà il giudizio poi finale ci verrà chiesto primo la carità verso gli altri e secondo l'umiltà cioè il sapere mettersi all'ultimo posto di fronte a Dio e di fronte ai fratelli. Con questo non significa che uno deve rinunciare alla propria missione o alla propria funzione all'interno di un gruppo sociale se uno ha un incarico quello deve occuparlo a servizio ma è l'atteggiamento è il modo di vivere certe cariche che deve distinguerci a servizio degli altri e non a servizio della nostra persona sia lodato Gesù Cristo a servizio